Ma che dire, nel 1991 nel film Johnny Stechino c'era l'avvocato di Johnny Stechino che diceva che la piaga che diffamava la Sicilia nel mondo era la siccità preceduta solo dal traffico. Detto tutto ciò, e ve lo dice un negazionista eco-fascista climatico, se volete convincermi che in Sicilia fa caldo, ci era già riuscito Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Leggetevi il gatto pardo e ci saranno delle pagine memorabili dove racconta della Sicilia terra piagata dal sole. Detto tutto questo, se in Sicilia manca lacca, quale sono le soluzioni? Dal mio punto di vista è semplice, l'acquedotto siciliano perde per ogni 100 litri 56 litri di acqua e ha dismesso i dissalatori. Per invece i climaticamente corretti bisogna andare tutti in auto elettrica da Avezzano ad Aosta e ricomincerà a piovere in Sicilia. Guarda qui, la dispensione della rete idrica. Sfido chiunque a trovare quale delle due ricette abbia più senso. Vi lascio a voi la parola. I numeri sono esattamente questi qui, li prendiamo dopo la pubblicità. Se nessuno fa nulla, ha voglia acqua. Grazie a tutti. Grazie a tutti.